Qual è la tua idea di questo viaggio? Siamo emozionati e... Aspettiamo di vedere come sarà domani, se riusciamo a partire soprattutto. Il biglietto maggiorato è 1,50€. A Padova il biglietto maggiorato per fare 3 fermate sono 4€. Prendiamoci conto della differenza di situazioni. Abbiamo fatto un sacco di cose, ho fatto pochissime clip in questa giornata. Abbiamo preso un motorino. Oggi è stato il primo giorno, siamo stanchi. Abbiamo guardato mille cose diverse. Ho fatto un disastro in bagno. Ho fatto la cosa dappertutto. Perché sono uscito con le ciabatte fino a qua. Ma è che fa freddissimo di qua. Ma sei pazzo. Fa freddissimo. Vai che ho stop. Stop, vacanza finita per me. Vabbè. Vabbè. Primo piatto del giorno. Degustazioni di formaggi sardi. Dico il questo. E non. E questo è quello che troviamo al supermercato di casa. E questo invece è quello di Vicenza. È buonissimo. Buono però. È il più buono dei tre. È arrivato il conto. Messa il voto al nostro locale. 55 e 55. Il voto potrà ribaltare o cambiare il risultato. C'è quanto. Se non siamo 63. 62, 63. Vedete? O che era già? 65 e 65. Vai qui. Que per te? O che era già e? O che era che aveva scopparto. O che era già? Vei qui a la casa. Vabbè. Vabbè. voto a questa sardegna tipo 11 è un paradiso domani abbiamo prenotato il tour guidato all'isola delle maddalene però la in fondo a 45 fermate con tipo poi buttarti e fare il bagno tipo in mezzo all'acqua mi sa anche non lo so quello adesso dobbiamo anche tornare a casa facendo un video qua mentre salgo per far vedere quanto è difficile ai nostri followers dobbiamo tornare e facci vedere la nuova camera perché c'erano un paio di cose che non andavano bene speriamo sia più grande sono arrivati in hotel abbiamo il cambio camera 3 2 1 passare a destra da strada che lucchetti a sinistra no bro devi girare dall'altra porta oh la quella non c'è frigo però apri qua guarda quella cioè sì mi scoce dalla finestra provate di spaccarmela per favore cena numero 2 il mio boy siamo dimenticati di filmare seadas finita due pizze come erano voto da 0 a 10 5 ok dividiamo il voto impasto in impasto impasto contenuto contenuto 7 7 e mezzo cottura cottura non classificabile per la mattia 33 anni esperto di pizza giorno 3 il giorno è il terzo giorno il giorno 3 siamo arrivati in un barchettino voto alla prima isola sparge 10 no no vedete teniamoci a fare fino ad 9 ora che manteniamo questo viaggio sono forti più difficili e dopo spiegheremo il classico italiano medio che riesce a vivere tipo nella vita però non è male il traghettino noi continuiamo a inumorare a segno a 3 metri e se prendo i biglietti dei colpi e mi metto a urlare sigari in mezzo alla baia 2.11 più di un'ora oh ah il tuo momento è disponibile 109 aspetta ma poi chi ne puoi vendere? eh bu aspetta qua 2 2 eh beh io devo prendere i 2 aspetta e adesso come faccio? vieni a accendere accendi e registrati è una piccola qua assurda dai bro l'hai appena fatta non è giusto no no non era registrato allora qua registrati no vecchio sono 30.000 persone davanti no perché non riesco a prenderlo è stato fallimentare questa cosa cos'è che è appena successo? abbiamo appena preso i biglietti dei colpi che giorno? il 29 giugno tutti a San Siro mi hanno pranzato stavamo facendo una panoramica io con la mia agilità suprema mi sono tagliato i posti come li scegliamo? siamo a Golfo Aranci scrive Golfo Aranci poi non è che sceglie un punto va su la mappe dentro alle vie chiuse dentro alle case alle ville delle case andiamo sul porto andiamo sul porto quindi siamo andati a Porto Cervo siamo entrati sul porto industriale siamo partiti alle 9 e mezza da casa abbiamo passato un'ora e mezza a cercare un ristorante abbiamo trovato questo alla fine siamo arrivati in aeroporto c'è stato lo strappino del signore del noleggio che è una signora che mi si chiama? Island Rive Marco molto gentile il signor Marco ecco se Marco se vedrai questo video grazie gentilissimo quindi siamo arrivati in aeroporto ancora prima avevamo la consegna alle 10 sulle 9.45 se non c'è in aeroporto esatto adesso siamo un'ora e mezza due ore in aeroporto fino al 1 vabbè allora insieme al mio compagno di viaggio sbrandax finita purtroppo finalmente non lo vedo più nooo valutiamo tutto da 1 a 10 per quello che abbiamo visto noi eravamo su a Olbia quindi nella parte destra tutti i posti 10 tu è piccolissimo l'angetto è arrivato tutti i posti 10 a vedere tutte le spiagge 10 a parte quella Golfo Aranci perché si andava sottomarina non per l'acqua ma per l'onto perché c'è tutta la plastica si ma non era quella principale non lo so però vabbè a parte quella che era un porto incredibile 10 il clima 10 cioè da fine non abbiamo anche spiagato 10 anche se è un sole devastante mi si è soluzionato mi si è soluzionato anche un altro 10 il cibo era un altro il concetto non abbiamo mangiato non abbiamo mangiato la frittura di pesce però vabbè quella col fritto è un po' uguale dappertutto non mangia pesce perché tutto quello non mangia pesce trasporti vabbè mutrino hotel 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 per incoraggiamento esatto allora uno alla prima stanza di primo giorno veramente da sboccox col cambio stanze siamo stati meglio però però poi vi dico che devo andare a fare un pì quindi vi lascio il volo cadrà ciao 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 ciao